La gente di questa piazza è la rappresentanza degli ispezioni sociali di questa piazza. La gente di questa piazza è la rappresentanza degli ispezioni sociali di questa piazza. La gente di questa piazza è la rappresentanza degli ispezioni sociali di questa piazza. La gente di questa piazza è la rappresentanza degli ispezioni sociali di questa piazza. La gente di questa piazza è la rappresentanza degli ispezioni sociali di questa piazza. La gente di questa piazza è la rappresentanza degli ispezioni sociali di questa piazza. La gente di questa piazza è la rappresentanza degli ispezioni sociali di questa piazza. La gente di questa piazza è la rappresentanza degli ispezioni sociali di questa piazza. La gente di questa piazza è la rappresentanza degli ispezioni sociali di questa piazza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.